A ragazzi molto importante e ci tengo molto a salutare le donne del club in giallo rosso perché comunque faccio parte di questo club e ne sono veramente contenta e fiera e ecco le saluto tutte perché questa sera vedremo la partita e quindi un grande in bocca al lupo anche a noi donne visto che anche noi comunque nel calcio ci facciamo tentire ormai Ciao a tutti!